La Sveglia La Sveglia Ma sì, ma dai, e dicelo anche a noi! Sono le tagliatelle di nonna Pina Pieno di energia, effetto vitamina Mangiate calde con ragù Con ragù! Ti fanno al pieno per sei giorni ed anche più Buo 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 Le tagliatelle di nonna Pina Sono molto più efficace di anni medicina Sensazionale a pranzo, a cena e credi a me Sono buone anche al mattino Al posto del caffè Yeah! La situazione è grave Ed anche i miei amici Sono tutti un po' stressati Per il troppo lavorare Il tempo pieno a scuola Non lo vogliamo fare Vogliamo star con mamma e papà Ma intanto mi hanno iscritto anche un corso di kung fu Sfruttando l'ora buca tra chitarre e ciclocross È veramente troppo, io non ce la faccio più Mi serve una ricarica per tirarmi su Ma un sistema rapido, impallibile e geniale Fortunatamente io ce l'ho Se me lo chiedete per favore Il segreto io vi svelerò Ma sì! Ma dai! Ed in scena anche a noi! Sono le tagliatelle di nonna Pina Un pieno di energia, effetto vitamina Mangiate calde con ragù Con ragù! Si fanno al pieno per sei giorni ed anche più Wow 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 Perché le tagliatelle di nonna Pina Sono molto più efficaci di ogni medicina Sensazionale a pranzo, a cena e credi a me Sono buone anche al mattino, al posto del caffè Viva le tagliatelle di nonna Pina Un pieno di energia, effetto vitamina Sensazionale a pranzo, a cena e credi a me Sono buone anche al mattino, al posto del caffè E allora forza dai ma che problema c'è Ci pensa nonna Pina a toglierti lo stress Yeah!